Dove puoi? No, ora lo compriamo. Perché I was checking... Prendere l'uscita a sinistra, poi... Prendere l'uscita a destra... Prendere l'uscita a sinistra... Prendere l'uscita a destra... Maestra... Maestra... Ma la combina? I was just too boss... All the women... No, but Italian women... Are not like this... Worst! Stop!